La Polizia di Stato di Enna nell'ambito dei servizi di controllo per la prevenzione e il contrasto della criminalità mafiosa ha attuato nei comuni di Nicosia e Troina interventi integrati multilivello di controllo del territorio. I controlli effettuati hanno permesso di conseguire i seguenti risultati. 218 veicoli, 411 persone e 15 soggetti sottoposti ad obblighi controllati, elevate 23 sanzioni per violazione al codice della strada, effettuati controlli presso 6 pub ed un controllo amministrativo presso un centro scommesse.